Essere farmacisti significa far parte di una comunità. E se la nostra luce resta accesa anche di notte, è per ricordarti che siamo sempre al tuo fianco. Farmacia Carino, con te, dal 1917. Si sta avvicinando la gara tra Cavese e Nardò, valevole quale finalissima dei play-off della serie di Girone H. Si giocherà domenica alle ore 16, a porte chiuse come la precedente semifinale tra gli Aquilotti e il Casarano. E i biancoblu si preparano per affrontare lealmente la formazione granata, allo stesso modo con cui hanno rispettato l'impegno con i casaranesi, senza sdombare gli avversari, senza lasciarsi neanche soverchiare troppo da loro a livello emotivo. Troise, l'allenatore dei metelliani, potrebbe avere un bel rompicapo da sciogliere in vista della sfida di dopodomani, la composizione del centrocampo. Bezzon, che aveva sostituito Aliperta, a cui il tecnico aveva dato una partita di riposo, contro il Casarano ha fatto bene, dando alle giocate dei metelliani un ritmo diverso rispetto alle precedenti gare, per cui potrebbe non essere scontato neanche il rientro dello stesso Aliperta dal primo minuto contro una squadra fisica e reattiva come il Nardò. Mugnoz sta recuperando, ma anche Puglisi, da quando è entrato in campo, si è comportato egregiamente, per cui il giocatore Etaneo potrebbe anche godere del privilegio di essere utilizzato come titolare, cosa che non gli accade da mesi. 4-4-2 o 4-3-3? Se le condizioni di Mugnoz non fossero tali da permettergli di giocare dall'inizio, Troise potrebbe optare per i tre centrocampisti. Sentiamo proprio le parole di Samuele Puglisi, autore del gol del vantaggio col Casarano. Durante la settimana cerco sempre di lavorare in proiezione della partita, quindi riporto tutto quello che faccio durante la settimana in allenamento, poi in partita. Fortunatamente ho trovato subito il gol che magari è stato anche una liberazione, anche mentalmente mi sono sentito più libero. E' un'altra squadra che ha dimostrato durante l'anno di essere all'altezza, di giocarsi fino a quasi le ultime partite del campionato, perché fino a qualche giorno dalla fine c'era il Nardò seconda, 4 punti a 9. Quindi sarà un'altra partita difficilissima, perché quella di oggi era difficile, molto difficile, l'abbiamo resa, diciamo, tra virgolette facile poi noi, ma sarà un'altra partita altrettanto difficile. E ora le parole di Troise che si è espresso proprio sul centrocampo. Farò quello che ho sempre fatto, valuterò quali saranno i primi undici e allo stesso tempo cercherò di coinvolgere gli altri, perché anche la partita contro il Casarano di oggi dimostra ed evidenzia la forza soprattutto del gruppo. Le difficoltà di Lurid, il corretto di un allenatore, sono quelle di avere l'impasto? Sì, assolutamente. Abbiamo costruito un gruppo in questo senso, e ho sempre cercato di far leva su tutti. E quindi ben venga, purtroppo ecco, come accennavo prima, nelle partite decisive, questo non è un alibi, ma è la somma che fa il totale. Partite contro il Martina, la partita di Brindisi ci ha visto costretti anche a diverse defezioni che poi nel raggiungimento e nella difficoltà di un obiettivo del genere sicuramente ci ha tolto qualcosa.